Ognuno troverà calciopassi e sarà felice di visitarli. Un pollo parteciperà al fantacalcio Lega Calciopassi. Sanchez non potrà più essere acquistato al fantacalcio. Non c'è, guarda che è già covente. Partecipa al fantacalcio Lega Calciopassi. Non te ne pentirai, anzi ti divertirai. Il fantacalcio più entusiasmante del web. Per iscriverti vai su www.calciopassi.it Per info scrivi a redazione calciopassi.it